Vite i Jiiiini! E' un video? Che cosa vuoi? Quei botte! Si botte botte! Non siamo un giocatore che si fa in questa botte 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 Nooo Vado qui Litto... Io sto già finendo la guerra O dovrei sicuro Voglio vedere quando ti vede Lucas vibrazzare E questa volta Vesto verrà con me Ti riprendo un po' io Sì Sì Sì